Buongiorno a tutti ragazzi per l'inizio di video, perché devo dire che sono diventato un creatore quindi andate nello shop oggetti e fate supporto a un creatore e scrivete tutto maiuscolo WL2, cliccate due volte L2 Pietro, far, così col trattino basso e fare tutto maiuscolo e trattino basso fate accetta e ogni acquisto che farete nello shop mi supporterà voi ovviamente non mi toglie nessun v-back cioè solo per supportarmi e se lo fate vi do un bel cesto di banane bella regata non mi toglie nessun v-back non mi toglie nessun v-back non mi toglie nessun v-back Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti.